Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati in questo video. Oggi parliamo un pochettino di quella che è l'Europa, la Champions in generale, l'Italia, il campionato di Serie A, la corsa al quarto posto che può diventare quinto, il ranking UEFA e tutte queste robe qui, ma non solo, non solo. Partiamo infatti dal rinnovo di Daniele Rugani che dovrebbe essere quasi roba fatta, ne avevamo già parlato, Rugani dovrebbe andare a spalmare un ingaggio molto elevato al momento per diventare una vera e propria riserva della Juve. Ora, non so che tipo di ragionamento vorranno fare sul reparto difensivo del futuro perché sulla Juventus bisogna un po' interrogarsi, da Thiago Jalò, Agatti, Alexandro che dovrebbe andare al 30 giugno 2024, c'è Huizen che dovrebbe rientrare, so che la Juve sul mercato sta monitorando il nome di Calafiori, però credo che abbia una valutazione elevata, quindi bisognerà anche capire se gioca a tre, se gioca a quattro. Rugani in questa stagione è stato un giocatore fondamentale, secondo me, per quello che è stato il gruppo squadra Juve, ha fatto delle prestazioni idonee a quelle che dovevano rappresentare un difensore di riserva della Juventus, anzi è stato molto molto bravo, secondo me. Addirittura in certi frangenti della stagione si è visto meno di quanto potesse meritare e ora un rinnovo che se lo va a qualificare come il giocatore di riserva che ha necessità soltanto di giocare determinate partite, determinati blocchi a un conto. Oggi Rugani titolare nella Juve potrebbe quasi starci addirittura in determinati contesti, sappiamo anche che ci sono dei giocatori che non sono stati benissimo durante l'arco della stagione, basti pensare a Capitan Danilo che sicuramente non ha mantenuto il livello di sicurezza difensivo, attenzione difensiva degli altri anni, un conto è se i determinati giocatori li rinnovi perché vuoi farli apparire come le riserve, quelli che metti dentro nei momenti difficili, un conto è se il livello delle riserve, il livello dei titolari a un certo punto può arrivare a mischiarsi. Questo è un bel problema secondo me, quindi la Juve dovrà anche un po' ragionare su quello che dovrà essere il reparto difensivo del futuro proprio perché ci sono tanti nomi, tanti giocatori, anche un metodo, un modulo, una guida tecnica che potrebbe cambiare e rivoluzionare tutto, passare a due difensori centrali invece che tre, serviranno dei terzini, la Juve deve ragionare per bene sul reparto difensivo. Ad ogni modo il rinnovo di Lugani sembra roba fatta. Così come sembra roba fatta Igor Tudor alla Lazio. C'è stato un po' di confusione in questi giorni alla Lazio, le dimissioni di Sarri, poi soltanto le dimissioni di Sarri e non quello dello staff, poi tutte le dimissioni ma Martuscello rimane. C'è stato un po' di caos. Il ritiro, il ritiro durato un giorno, poi ritirato il ritiro, scusate il gioco di parole, non si è capito tanto bene quello che stava effettivamente succedendo a Formello e Igor Tudor dovrebbe essere il prossimo allenatore della Lazio che inizierà questo percorso subito dopo la pausa nazionale. La prima partita di Igor Tudor sarà contro la Juventus in Serie A. Vedremo cosa succederà alla Juve. Intanto c'è un'ultima partita col Genoa da giocare e io tra l'altro sono allo stadio. Alla fine vado allo stadio e vado allo stadio in una situazione di difficoltà estrema perché purtroppo il ginocchio non mi sta aiutando in questo momento qui. e quindi avevo voglia di andare allo stadio perché c'era la possibilità di andare a vedere la Juve di domenica a mezzogiorno quindi era abbastanza comodo dal punto di vista degli spostamenti. Diventa scomodo dal mio punto di vista fisico però quest'anno non ero ancora andato allo stadio e avevo un po' necessità di ripristinarmi con la Juve. Riuscirà la Juve a vincere dopo questa serie di partite un po' così? Io quest'anno allo stadio ho visto solo Sassuolo, Juve 4 a 2 quindi diciamo che non ho portato molta fortuna infatti mi ero fatto una promessa finché la Juve è in lotta a Scudetto o comunque sta facendo bene dal punto di vista del rendimento io allo stadio non ci vado più. Diciamo che dopo queste sette, sette, sei partite, sette partite tra Empoli e Atalanta mi sono detto va bene, d'accordo, non è più colpa mia, non è più responsabilità mia. Adesso se ho voglia di tornare allo stadio posso farlo nella tranquillità più totale quindi ci vediamo, sarò in tribuna a ovest e nel caso mi riconoscete perché sono quello lento con le stampelle. Abbiamo già parlato della possibilità di esonero di Allegri dopo Genova, dopo Juve Genova io vi ripeto, vi rimando al video che ho fatto qualche giorno fa, non credo che ci siano le possibilità e nel caso la Juventus avrebbe già deciso di esonerare Allegri anche in caso di vittoria. Non penso che questa cosa possa essere collegata, poi vado a testare un pochettino il livello della magia nera di Allegri perché da quando è tornato Allegri purtroppo il mio score allo stadio è molto negativo. Credo aver visto soltanto due vittorie, una col Maccabi in casa per 3-0 e una invece, madonna, con il Malmo 1-0, Moise Ken, una Torino con la neve, c'era freddissimo, era l'8 di dicembre. Due partite anche un po' così, invece credo che in Serie A, in Coppa Italia, di non aver ancora mai visto nessuna partita vinta nell'Allegribis, la cosa mi disturba anche abbastanza perché il mio score allo stadio era sempre stato particolarmente positivo e voglio un attimino cercare di riprendermi. Poi la Juve in questo momento è in crisi, non credo di essere io eventualmente il motivo della sconfitta, o tanto bene o tanto male in questo momento. Io ero convinto che la Juventus potesse pareggiare col Genoa prima della partita con l'Atalanta, la mia presenza allo stadio forse mi fa dire che il segno X, quindi l'equilibrio è da scartare a priori, può andare o tanto bene o tanto male. E poi bisogna parlare per forza di cose dell'Europa perché si intreccia questo ragionamento proprio con la Juventus stessa perché oggi ci sono anche i sorteggi europei, dato che si sono conclusi i turni di Champions, di Europa League e di Conference, se non ci sono italiani in Champions, le altre due competizioni vedono delle protagoniste. La Fiorentina è in Conference ma soprattutto un'Europa League molto interessante per le squadre italiane dove bene o male si sono rispettati i pronostici, va avanti il Milan, va avanti la Roma, va avanti l'Atalanta stessa, quindi ci sono diverse squadre italiane e l'Europa League e l'Atalanta tra l'altro ha fatto un bel recupero su quella che era lo sport in Lisbona, si partiva da un 1-1 in trasferta, invece l'Atalanta poi è riuscita a vincere questa gara, ad accedere alla fase finale. Questa cosa è molto importante anche per quanto riguarda in generale la Serie A, non solo queste tre squadre perché c'è quel discorso legato alla quinta squadra che in Italia andrebbe a qualificarsi per la Champions, quindi anche la quinta posizione è valevole per la Champions, questo secondo me si incastra ancora di più nel ragionamento che vi facevo che la Juve dovrebbe stare tranquilla per la qualificazione alla prossima Champions League, se abbiamo la possibilità anche di arrivare quinti. Ho dato un'occhiata a quello che è il ranking europeo, l'Italia è a 17 punti erotti, dietro ci sono la Germania e l'Inghilterra, si qualificano le prime due, basterebbero una manciata di punti all'Italia perché poi ha un coefficiente di divisione pari a 7, dato che l'Italia aveva 7 squadre europee in competizione da inizio anno, l'Inghilterra invece ne aveva 8 quindi è molto più complicato per loro perché anche vincendo o passando il turno avranno una divisione diviso 8, invece noi ce l'abbiamo diviso 7 quindi il valore sarà più affine a noi che siamo comunque già avanti, quindi è molto complicato vedere un'Italia senza 5 squadre in Champions l'anno prossimo, non significa che sia impossibile, oggi i sorteggi aiuteranno, bisogna stare attenti alla Germania e all'Inghilterra, però diciamo che anche solo le partite di ieri hanno dato un boost all'Italia, è stato un boost positivo di qualche decimale, l'Italia ha guadagnato dei vantaggi nei confronti della Germania che per dire ha perso il Friburgo o dell'Inghilterra che ha perso il Brighton, quindi questa roba è molto importante dal nostro punto di vista proprio perché molto probabilmente, non certamente ma molto probabilmente dovremmo riuscire a qualificare 5 squadre l'anno prossimo alla Coppa dei Campioni, attenzione però che secondo me dentro questo ragionamento si può leggere anche un'altra linea di pensiero che è quella che più mi rappresenta e quindi voglio cercare insieme a voi di ragionare su questo fatto e cioè secondo voi, dato che l'anno prossimo partirà anche questa nuova Champions con più partite garantite eccetera eccetera eccetera, c'è un vero e proprio declino del livello europeo perché quest'anno ci siamo detti tante volte che la grande favorita è il City, che il Real è il Real e in Champions lo devi mettere in preventivo e le altre, boh, chi c'era? l'Inter da ragionare come squadra che dato che l'anno scorso è arrivata in finale bla bla bla, mi sembra che non ci siano proprio più quei grandi squadroni di una volta, che magari erano due o tre squadroni per edizione, il Barcellona, il Real Madrid, il Liverpool, mi sembra che si sia un po' abbassata in generale, non la qualità di quelle forti forti perché il City rimane forte forte e il Real in Champions, forte o non forte lo devi mettere in preventivo, però di tutte le altre squadre che possono cercare della loro, i vari Bayern Monaco, i vari PSG che certo possono comunque vincere la Champions ma in questo momento partono un po' da outsider, possiamo considerarli come outsider, lo stesso Atletico non è impressionato, c'è l'Arsenal, il Borussia, boh, sono convinto che il livello della Champions sia un pelo abbassato negli ultimi anni e credo che questa cosa passi anche da questi nuovi regolamenti, da queste Champions più larghe, io non l'ho mai vista la Coppa dei Campioni vera e propria da tifoso, con un'età, non potevo ragionare, essere razionale, però la Coppa dei Campioni qualificava una squadra, una, i campioni e quindi si affrontavano queste squadre che erano riuscite a trionfare a livello nazionale io mi ricordo i tempi delle tre italiane in Champions, forse addirittura erano due italiane qualificate, quindi la prima, la seconda più la terza che andava a fare i preliminari di Champions quindi la stagione partiva prima, era più problematico, non sapevi se eri in Champions o no, se dovevi considerarti o no poi si è arrivati addirittura a giocarci per via del raking i tre più uno, le prime tre qualificate, più una che andava a fare i preliminari quindi non sapevi la stagione partiva prima e tutte queste robe qui, però già tre che di diritto andavano in Champions è una roba forte perché una squadra che arriva terza, va bene, magari arriva terza in qualche punto, ma in generale va bene, il podio più la quarta oggi siamo a quattro qualificate secche, cioè ragazzi intendiamoci, una squadra che arriva a quarta su 20 ma figuriamoci una squadra che arriva a quinta su 20, cioè siamo passati da accede quella che vince a ne passano 5 io capisco che ci siano tante squadre che lottano, che sono interessate a guadagnarsi quel posto ragazzi ma 5, cioè già 4 per me è tanto, 5 è troppo, se 4 è tanto 5 è troppo e secondo me questo va a contribuire un po' ad abbassare il livello generale della qualità della competizione stessa poi a noi torna utile in questo momento, non dobbiamo essere ipocriti, torna utile in questo momento perché la Juve è in crisi la Juve non si sa quanti punti farà da qui alla fine, quindi arrivare quinto e andare in Champions partendo un campionato in cui 10 punti, 12 punti di vantaggio sulla sesta o quelli che sono, sono tanti comunque sono tanti, è qualcosa di positivo per la Juve però ragazzi 5 squadre in Champions, sì bellissimo, facciamo festa, tutti contenti, soldi per tutti la Serie A l'anno prossimo, tante squadre però boh, cioè proprio sulle decisioni generali a me è una roba che fa un po' riflettere ma soprattutto perché mi ricordo i tempi in cui ci andavano due squadre più una o tre squadre e già arrivare terzi era una sorta di sconfitta per le squadre che arrivavano al terzo posto perché dovevano fare i preliminari o al quarto posto perché dovevano fare i preliminari oggi arrivi quinto ed è come essere arrivato primo dal punto di vista della qualificazione, della progettazione ci sono meno soldi dal punto di vista della posizione in Serie A, d'accordo c'è lo scudetto contro il titolo che non vinci però, però, secondo me, 5 squadre, cioè che arriva quinto e arriva in Champions o sì, bello dal punto di vista economico meno bello dal punto di vista sportivo e della manifestazione ma sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, fatemi sapere tutto perché ci sono tanti temi che abbiamo affrontato oggi e domani invece è già vigilia parleremo delle parole di Allegri e poi io partirò per Torino per essere presente a Juventus Genoa e sono curioso anche di sapere se secondo voi riuscirò a portare fortuna o sfortuna questa volta e poi ci sono anche di sapere